La Sears Tower si innalza per quasi 500 metri nei cieli soprascicato. Con la sua struttura di alluminio e vetro, ricopre un'area di 420.000 metri quadrati. Già al 110 piano, la Sears Tower deteneva il primato di costruzione più alta del mondo e lo ha mantenuto per oltre 20 anni. Scopriamo insieme cosa ci vuole per gestire la struttura. Scopriamo.